Si comincia a delineare la vicenda avvenuta nella serata ieri a Campli, nella frazione di Campiglio, dove una donna di 33 anni è stata trovata in un lago di sangue nella sua camera da letto. A dare l'allarme sono stati familiari che hanno subito chiamato il 118 e in poco tempo un'ambulanza è arrivata sul posto. Dall'ospedale è poi partita la segnalazione alla polizia e sono state avviate immediatamente le indagini delegate alla squadra mobile di Teramo, dal PM e Laura Colica che hanno consentito al momento di avere un quadro più definito dell'episodio. Con il passare delle ore infatti ha perso quota la pista di tentato omicidio o di gesto volontario, mentre prende sempre più corpo quella di una tragica fatalità, ossia che dall'arma da fuoco sia partito un colpo che ha raggiunto al capo la donna, mentre puliva la pistola regolarmente detenuta. In casa del resto non sono stati rinvenuti segni di effrazione, in ogni caso saranno le verifiche tecniche e le successive indagini a far luce sulla vicenda. La donna è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo e nella notte è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. A quanto si è appreso, la donna nubile fu coinvolta in passato in un tragico incidente. Con l'auto investì una coppia e una delle due persone perse la vita. Una tragedia, rivelata da chi la conosce, che la scosse molto e dalla quale non si riprese mai del tutto.